I medici di famiglia sono alle prese con un problema non da poco. Alcuni pazienti Novax di fatto intimano loro di rilasciargli un'esenzione dalla vaccinazione minacciandoli di azioni legali in caso di reazione avversa. Francesco Franzin, segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, precisa l'esenzione si può ottenere solo in tre casi, ovvero reazioni allergiche molto gravi in occasione di altri vaccini, aver avuto una reazione allergica alla prima somministrazione del siero, essere allergico ad una componente del vaccino. Ci sarebbe una strada che è percorribile in casi del resto ben evidenti. Noi possiamo anche fare un certificato che dica che basandosi su una determinato stato clinico che però è in quel momento, diciamo del paziente attuale, insomma nel paziente che ho davanti, la vaccinazione deve essere dilazionata, cioè riferita ad altra data. Alcuni pazienti chiedono anche di essere sottoposti ad una serie di esami dai quali risulti la loro incompatibilità con il vaccino e non dimentichiamocelo ottenere in questo modo il Green Pass senza passare per la vaccinazione. Però nel momento in cui tutti questi esami risultano negativi, la vedo dura, fare un certificato che poi diventa anche un falso in atto pubblico è per noi un fatto penale. Molti medici stanno pensando fra l'altro di depennare dai propri elenchi questi pazienti. Potrebbe anche essere una soluzione che mi sembra abbastanza utilitaristica perché effettivamente nel momento in cui si arriva dal medico con l'avvocato allora io credo che il rapporto fiduciario venga assolutamente a mancare. In attesa di un pronunciamento netto da parte del Ministero della Salute e conseguentemente da parte di Asugi, Franzin ragiona anche sulla questione terza dose e va oltre. L'ideale, spiega, sarebbe avere un vaccino dalle caratteristiche di conservazione simili a quelle del vaccino contro l'influenza. In quel caso, spiega, ci si vaccinerebbe senza problemi negli studi dei medici di famiglia e l'immunità di gregge verrebbe raggiunta con maggiore velocità.